22 giugno La via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di quelli che si rifugiano in Lui. Secondo Samuele, capitolo 22, verso 31 La perfezione di Dio Dio è perfetto. Perfetto nella sua natura, in quello che dice attraverso la sua parola, in quello che compie in favore di chi si affida a Lui, nel giudicare i sentimenti e le azioni dell'uomo. Egli, nella sua perfezione, opera secondo i suoi tempi e secondo i suoi metodi, per tutti coloro che ripongono in Lui la propria fiducia. L'opera che il Signore compie è sempre senza errori, anche quando chi ne beneficia non riesce a comprendere che cosa ha desideri fare nella sua vita e per la sua vita. La parola di Dio è perfetta. Gli effetti che sta producendo nella vita di chi ascolta, con un cuore sensibile a ciò che il Signore dice, sono straordinari, potenti ed evidenti. Il testo ci parla della perfetta via di Dio. Chi si arrende al Signore e segue le indicazioni della scrittura, cammina nel sentiero della benedizione e si trova al centro della sua volontà. Credi e confida nel Dio perfetto, che ti parla con la sua perfetta parola, perché tu possa camminare nella sua via e realizzare i beni della sua grazia. Grazie per la visione!